Un evento che si rivolge innanzitutto ai giovani e che porta qui nel territorio di Notaresco ragazzi da ogni parte d'Italia e d'Europa. Sì, è un evento importantissimo nel nostro territorio. Io continuo sempre a ringraziare la famiglia De Patre, Evo Manobai, Pasquale Parmigiani, tutti gli organizzatori che si occupano di questo evento importante che sicuramente, come diceva il sindaco, è un evento che porta tante squadre dalla Lombardia alla Sicilia, c'è anche la nazionale della Repubblica cieca, quindi per noi è un grande evento e siamo contenti, onorati, orgogliosi di ospitare questo evento qui sul territorio di Notaresco. Quindi sicuramente sarà una grande corsa e siamo contenti di ospitare questo grande evento sul territorio di Notaresco. Grazie a tutti.